La giornata a Coverciano si è conclusa poco prima delle 23 quando Cesare Prandelli ha reso nota la lista dei 23 convocati per la Confederations Cup. Già in mattinata il professor Castellacci aveva annunciato l'addio di Antonelli fermato dalla contusione rimediata contro San Marino. Al laterale Genuano si sono aggiunti le portiere Agazzi, i difensori Ogbon e Ranocchia, il Doriano Poli a segno contro San Marino, Bonaventura e Sau che nell'amichevole di venerdì scorso avevano fatto il loro debutto in azzurro. Nella conferenza stampa dell'ora di pranzo quando ancora non aveva deciso i prescelti Prandelli aveva sottolineato come l'esclusione non vada interpretata come una bocciatura. Io dico che questo è un gruppo di ragazzi che non sarà né tagliato né bocciato ma è un gruppo di ragazzi che avremo modo di seguire, avremo modo sicuramente di richiamare. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento da preparare, c'è il match con la Repubblica Ceca di venerdì prossimo, gara importante nel cammino che può portare gli azzurri ai mondiali in Brasile. Prandelli lo sa e per questo non vuol sentire parlare di Confederations Cup, domenica sera infatti non ha visto Brasile e Inghilterra. No, ho visto Livorno e Empoli, è la verità, non ho visto, ma non lo sappiamo, siamo documentati, adesso parte la battuta. No, siamo documentati, Brasile è riuscito a pareggiare alla fine, abbiamo registrato tutto, però abbiamo volutamente evitato di analizzare già queste partite perché noi abbiamo una partita importante il 7, la Repubblica Ceca, non vogliamo avere distrazioni. Presente in conferenza stampa anche Demetrio Albertini, il vicepresidente della FGC, ha fatto sapere che in maltempo che sta colpendo il centro Europa e che ha colpito anche Praga, al momento non mette a rischio la disputa della partita. Sappiamo tutte le opzioni che può essere quella di poter essere rinviata di qualche giorno o addirittura la sede, queste sono le due possibilità, però non c'è mai stata una possibilità seria oggi parlando con la FIFA o con la Repubblica Ceca di questa situazione. È monitorata, siamo in contatto diretto con la FIFA, che per ora ci hanno assicurato che la nostra partenza, la nostra gara, non ci sono cambiamenti. Da segnalare che nella mattinata a Coverciano è stata presente la Street Soccer Scotland, una squadra di senza tetto e ragazzi scozzesi con disagi sociali. Hanno potuto collezionare autografi e foto e portare via da Coverciano un ricordo tinto d'azzurro. Grazie a tutti!